eccoci qua a giocare a custom night che sarebbe la night seven adesso vi spieghiamo brevemente che abbiamo intanto lasciamo caricare la custom night anzi no è vero abbiamo selezionato difficoltà ovviamente noi siamo qua 1 3 3 sarà difficoltà del forse della notte 1 vabbè noi siamo masochisti ovviamente mettiamo dato che vi raccontiamo di come siamo riusciti a completare la night siamo semplicemente tenuto la telecamera sul freddy sul sull'orso abbiamo semplicemente usato le luci per tenere all'area questi due e la volpe stranamente non è mai arriva 3 ora cazzo non è andato controlliamo subito se qua che non si sa mai il trucco è guardare sempre la 1 a per freddy e magari qualche volta la 2 a per no mai quella della polpa non l'abbiamo mai guardato vabbè proviamo a fare senza ma che cazzo c'è vecchio in due secondi il teddy bear è andato via la porca troia porca troia abbiamo sottovalutato un po' la notte 7 ma in fine dei conti è l'ultima in effetti se la completiamo voglio 3 milioni di euro si anche per che puttana dai chiudi lag di merda ahhh un orso ma che cazzo ma porca di quella troia che ne hai idea ma però sto neanche a guardare tanto faccio così ecco non è già andato c'è proprio è volato ma come cazzo fa quel tipo la guardare cioè a destra e sinistra ma vaffanculo è già andato via la telecamera no perché ci fanno il culo ci fanno il culo è già andato via l'orso no dobbiamo trovare subito l'orso mamma non c'ho già paura bogo 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 posto granato ma posto granato vaffanculo zucchia questo computer di merda nooo ma cos'è sto rumore ma porca troia ma che cazzo ma c'era l'orso hai visto l'hai visto? eh ma mi stavo tondonando della paura ok ma vaffanculo mi ha ucciso ma non fai neanche più il verso ma che cazzo no l'orso merda mi stavo anche sfogando dai accetta che va vaffanculo veramente e verba I want everybody say about the bear e i suoi frienz ahi 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 ci arriva anche la volpe veramente io non so bo ci vogliono morti non so non c'è è vero dovresti fare così ma vaffanculo socchiami le palle secondo me succhia che c'è succhia la musica dell'orso mi cucetero 항 Suck my big bear Dio cane Abbiamo fatto lunedì a venerdì E' semplice Poi il sabato ci sono tanti bambini Allora si scatterano di più queste cose Poi la domenica ovviamente c'è il patello On everybody bear Devi tenere la luce a cielo Mi dimentico Dio cane porca madonna Con questo canale potete sentire offese Bestebbie, razzisti eccetera eccetera Non è adatto ai cattolici O a qualunque tipo di religiosi E di neri E di messicani, ebrei e musulmani Se siete una di queste cose Guardate questo canale perché potrete Se siete una di queste Potrete restare offese C'è un ruoccio in tutto C'è un ruoccio che rompe il cazzo qua di fianco Ma ce l'ho in mezzo alle gambe o ce l'ho F*** Perché era la loro tattoo Perché stiamo parlando in inglese Perché l'inglese sono stati di mangia tè di merda Vedi vedi che sono fese Siamo ragazzi noi Ma perché ho chiuso la luce Chiuso la luce Chiuso la luce E accendi la porta Per tutto questa L'italiano per me è un'option Anche le telecamere per te sono un'option Anche le telecamere per te sono un'option Perché? Non posso dire No Bacchuccia! 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 Perché hai preso la porta! Perché hai preso la porta? Ah, giusto C'è lo c'è lo Hey Bari Stupid Pedal Bear Lui è Petty Petty Pie Petty Pie Petty Pie Friday with Petty Pie No Friday with Petty Pie Friday with Petty Pie Friday with Petty Pie We must stay Merda ma perché ho aperto la porta? Ok ok No Devo resistere Stiamo qua Friday with Petty Pie Che schifo! Ma dai! Ecco esatto Volevo dire che mentre io giocavo da solo senza fare il gameplay è già una cosa stranissima E' apparso un orso mezzo d'oro e mezzo nudo Ma porca puttana non è possibile Vaffanculo Un orso d'oro mezzo nudo sulla mia scrivania che mi faceva ciao vuoi ficcarmelo dentro? No non è andata proprio così No però comunque mi ha fatto cresciare il gioco e mi ha fatto uscire perciò non era tanto normale quell'orso lì E non era così era d'oro senza gli occhi Eh! Eh! Dove sono qua? Un bel guardino azzurre Una smadonna l'altra d'oro Mi ha rotto il cazzo questo coniglio di merda Ci ha ammazzato... Ciccalafica o non ci ha ancora ammazzato una volta? No una volta sì Cerchiamo di comunicare con l'uccello Mi stiamo chiedendo di non uccidere Ma come è l'uccello che fa quei versi? Il coniglio fa da 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 No ma non è Bonnie Il coniglio fa solo la musica Cazzo stai dicendo? Allora L'orso fa... No aspetta L'orso fa la musica Il coniglio fa da 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 Si e l'uccello fa E la volta? What does the fox say? Venuta da Dio Dopo non sentiamo i passi della fox What does the fox say? Cazzo... Molte volte a porti di nuovo What does the fox say? L'lysio fa What the fox say? What the fox say? Restore L' ragazzi Chi Oh 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 Sì, avete ascoltato What Does The Fuck Say da Radio Five Nights. Oggi è proprio una bella serata, ragazzi, per giocare a Five Nights, cazzo. What does the fuck say, papapapapapau. Hai visto un lampo di coniglio. Cazzo, però, se sono i due esseri, mica posso tenerla aperta, cioè, nooo, nooo, lo chiamo DJ Blend, DJ Blend tutta la vita, ragazzi, questo è il più tarrone che ho mai ci accompagnerà alla vittoria. 10 minuti di Blend, ecco, certo, 10 minuti di Blend. Non è possibile, ok, non è possibile, facciamo così. Proviamo più che non finisce DJ Blend, se non ci riusciamo niente, se ci riusciamo bene. Guarda, ci stai. Vi ho fatto uno scommesso contro noi stessi. DJ Blend, ora, vediamo, 10 minuti, 17, sono passati due minuti, quindi, dobbiamo muoverci. dobbiamo finire, cercare di finire, mentre c'è DJ Dome. No, non è che dice qua, con le crazy shit e con un capo di crazy shit. Non c'è più la telecamera, shit digos. Vero, crazy shit. Un mega remix, questo qua, da 10 minuti, scaricatelo perché è super. Spero che non ce lo censuri. No, perché ho registrato quel registratore non lo posso censurare. Infatti anche Martin Garrix non ce l'hanno censurare. Noi usiamo le come sonora, non strofare a nostra piacere. Noi usiamo le come sonora, non ce l'hanno censurare. Se non vengono, perché c'è la musica. No, quel cazzo vengono. C'è, quando gli avvieni c'è... Chi ha quel tarone? Un tarone di merda. Ora si incazzano perché abbiamo la musica a spalla e vogliono che si vengono. It's me, vecchio! No! Guarda che potrai che non fai decisione. Non fai decisione di ricercare. Un effetto buon sangue. Un effetto buon sangue in alcune, non si intende. Un effetto buon sangue. Un effetto buon sangue in alcune varie più sulle scuole. Ciao! 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 Lassia! Stai mi cellulare! Voglio guardare il bambino che ho! Ma no! Se lo dici! Vaffanculo! Vaffanculo! Avevo anche chiuso la porta cazzo! Vuoi finire la sentita! Ahah... Ahah... Come lo so! Bene! Stiamo qui a giocare alla Custom Story! 20, 20, 20, 20! Abbiamo chiuso tutte le porte, altrimenti rischiamo che entrino. Dobbiamo sperare che arrivino le 6! Ti prego, fai che arrivino le 6! Ti prego! Sì! Ragazzi, abbiamo completato la Custom Night! 20, 20, 20, 20... No, sto scherzando! Era 00, 00! Sì, abbiamo fatto questo trucchetto perché ci vergogniamo venivamo di non completare la 2020-2020 comunque abbiamo voluto fare questo anche per voi per vedere come era la fine tanto qualunque difficoltà veniva fuori sta roba in pratica alla fine dice che ci licenziano perché abbiamo manomesso gli animatronics e puzziamo esatto e quindi ci ha dato la colpa di tutto in poche parole sono dei figli di puttana ok dopo quest'ultima citazione dal pazzone direi di concludere ma siamo ancora amici anche in inghilterra si in tutto il mondo ok in britannia si è piaciuta la serie di five nights at freddy's mi invitiamo a commentare positivamente e scrivete i nostri secondi deve imparare dei miei camminati in barinata si si lui parla di league of legends perfetto bye bye ciao strano